Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing, tema Harry Potter naturalmente, ma anche tema Black Friday su EMP perché il giorno del Black Friday ragazzi ci sono state offerte pazzesche, offerte a tempo, offerte limitate solo a chi possiede già il Backstage Club che io vi consiglio tantissimo, costa una stupidata, vi dà consegne illimitate per un anno e promozioni come quella che state per vedere ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter potrete acquistare tutti i prodotti presenti sul sito col 20% extra di sconto perché il mio sconto è accumulabile con tutte le offerte già attive sul sito e ultimamente sono davvero tantissime troverete magliette come quella che indosso io a tema potteriano ma anche di tantissimi altri fandom quindi ragazzi link in infobox, vi ricordo anche di andare a sbirciare nel mio negozio Amazon, nella mia vetrina Amazon vetrina in collaborazione appunto con Amazon dove ho scelto tantissimi prodotti super nerd a tema Harry Potter ma non solo da poter acquistare in tutta sicurezza e ragazzi naturalmente trovate anche di questo il link in infobox ma detto questo, finito il momento pubblicità, ragazzi abbiamo questo pacco che ho acquistato a mezzanotte circa forse mancava qualche minuto e fortunatamente mi sono accorto di questa promozione perché c'era il 70% di sconto su tantissime cose a tema Harry Potter ma esclusivamente per chi aveva il backstage già attivo quindi ragazzi ho visto questo prodotto che è una statua, una statua da quasi 100 euro di Harry sulla sua scopa, è una statua relativa al primo film, la pietra filosofale dove abbiamo Harry che viene disarcionato dalla sua scopa, dal bolide incantato forse era il secondo film, ragazzi al momento mi sfugge, no era il primo film perché sì, è quello con Raptor, quindi il primo film e avevo visto questa statua ma costava quasi 100 euro e quindi mi sono trattenuto e invece l'ho beccata quella sera col 70% di sconto e l'ho pagata, tenetevi forte, 28 euro ragazzi solo 28 euro, c'erano anche tante altre cose, c'era il drago della Gringot scontato del 70% c'era anche una bellissima bulldenage sempre di Harry Potter scontata al 70% ma mi sono trattenuto perché ho speso un sacco di soldi durante questo Black Friday ho comprato tutti i regali di Natale e quindi mi sono concesso solo questo regalino che adesso andiamo ad aprire, vediamo, ok ci siamo ed eccola qui, abbiamo la nostra fattura, abbiamo il solito adesivo di MP un buono regalo e poi ecco che all'interno c'è la nostra statua e basta eccola qui finalmente tra le mie mani, io pensavo che la scatola sarebbe stata più piccola quindi questo già promette abbastanza bene e questa statuina è prodotta da Enesco Enesco ha anche in vendita sul suo sito ma anche su MP alcuni pezzi e oltre alle statue che raffigurano i personaggi che sono fatte molto molto bene di solito ci sono anche tutte le riproduzioni degli edifici troviamo il castello di Hogwarts, troviamo la Gringot, troviamo i tre manici di scopa sono davvero molto molto belli, gli edifici si illuminano, hanno anche dei led all'interno io su MP ho visto il castello che è diviso in due parti, ho visto la capanna di Hagrid, la Tana ma ci sono davvero tanti tanti pezzi, costano parecchio, tutti intorno ai 100 euro l'uno e quindi sono stato super felice di beccare questo pezzo qui che adesso andiamo ad aprire assieme perché è un pezzo assolutamente da collezione come vedete imballo degno di Noble Collection quindi tutto super curato, visto che non parliamo di prodotti da pochi euro ed è giusto che sia così, che sia tutto ben curato e adesso andiamo a tagliare qui lo scotch di proporzione ok, direi che ci siamo e adesso possiamo andare ad estrarre la nostra statua statua che ragazzi non è tutta intera ma è smontata quindi abbiamo questa statua da montare e tiriamo fuori i pezzi qui abbiamo il nostro Harry Harry che è fatto davvero molto molto bene Harry sulla sua Nimbus 2000 abbiamo anche il loghetto Nimbus 2000 qui sulla scopa abbiamo tutti i minimi dettagli realizzati molto molto bene abbiamo anche lo stemma di Grifondoro sulla sua giacca da quidditch la giacca a vento i suoi occhiali sono ragazzi fatti benissimo sono proprio degli occhiali c'è la montatura senza i vetri ma la montatura realizzata in miniatura è poggiata sul naso di Harry ma adesso sicuramente vi farò vedere meglio tutto da vicino quindi questo già devo dire che è realizzato benissimo ma andiamo a vedere tutto il resto abbiamo anche la base e il bolide io cercherò di non rompere niente me lo auguro ok ecco qui abbiamo anche la base che è molto 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 grande è bellissimo questo dettaglio è davvero bellissimo adesso ve lo mostro meglio anche questa parte qui credo che si possa separare ma no non la tocco non voglio romperla togliamo questa scatola e ragazzi adesso ve la mostro meglio qui abbiamo questa base in pietra è tutto realizzato in resina credo e sotto abbiamo naturalmente tutti i loghi il logo di Harry Potter la licenza di Warner Bros il nome del produttore che è Enesco e poi abbiamo anche questa etichetta che dice non è un giocattolo ma è solo un oggetto decorativo e ragazzi io voglio mostrarvi questo dettaglio che è davvero molto 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 bello si tratta del bolide che è qui nell'attimo esatto in cui spezza l'asse di legno quindi ci troviamo nella parte bassa della torre che ospita gli spettatori durante la partita di Quidditch e abbiamo Harry che va incastrato qui adesso lo inseriremo e il bolide che cerca di colpirlo e che spezza quest'asse di legno davvero fatto benissimo e adesso andiamo a posizionare anche Harry incastro molto interessante perché abbiamo questa sporgenza qui su quest'asse e poi questa incavatura qui nel mantello ma sono magnetici all'interno di questa parte sporgente si sente anche passando il dito magnete che va ad attrarre la statuina verso di sé e ragazzi è molto molto saldo è un magnete molto potente io ho impiegato davvero molta forza per staccare la statua e ragazzi questa è una cosa positivissima perché evita ad Harry di cadere magari durante un'oscillazione quando lo andiamo a prendere dalla nostra mensola potrebbe cadere invece guardate non si stacca è un magnete davvero potentissimo e come vi dicevo ecco che abbiamo il bolide è Harry che sfreccia sulla sua scopa sulla sua Nimbus e cerca di evitare l'impatto è davvero pesantissima realizzata benissimo e ragazzi sono super super soddisfatto non avrei mai creduto di poterla prendere per un prezzo così basso un solo 28 euro ragazzi li vale assolutamente ma secondo me ne vale anche 100 li vale tutti perché è davvero realizzata molto molto bene prodotto di altissima qualità che non vedo l'ora di mettere nella mia collezione quindi ragazzi quando uscirà il video della collezione aggiornata preparatevi a vederlo nella sezione Quidditch perché è davvero super super bello sono contentissimo di essermi collegato a EMP durante quella nottata insonne quindi grazie mille EMP per queste bellissime promozioni e ragazzi di recente giusto due giorni fa credo ho acquistato su EMP dovrebbero essere ancora disponibili le decorazioni natalizie ufficiali di Harry Potter c'era sia la piccola Edvige da appendere sull'albero di Natale ma io ho acquistato invece il calderone della pozione polisucco da appendere all'albero quando arriverà naturalmente ve lo mostrerò se non qui su YouTube sicuramente almeno su Instagram quindi cercatemi Antonio.seria ragazzi che dire io sono super soddisfatto di questo acquisto fatemi sapere voi cosa ne pensate secondo me è stato un vero affarone quindi adesso sotto nei commenti ditemi anche la vostra ditemi se voi avete acquistato qualcosa di molto interessante su EMP durante il Black Friday ad esempio ho visto anche il mantello dell'invisibilità al 70% di sconto purtroppo era troppo tardi erano in scadenza le offerte sarebbero scadute a mezzanotte quindi io in pochi minuti ho acquistato questo e non ho avuto assolutamente il tempo di segnalarvi le offerte su Instagram mi dispiace ma di solito lo faccio lo sapete bene detto questo ragazzi io vi ringrazio ancora tantissimo per aver visto il video mi raccomando lasciate un mi piace commentate iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti consigliate il canale ai vostri amici e ragazzi come al solito non trascurate l'info box e seguitemi su Instagram Antonio.seria credo di avervi detto tutto io vado a posizionare il mio Harry nella collezione e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao ciao a presto